In quel tempo Gesù disse chi di voi se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge gli dirà quando rientra dal campo vieni subito e mettiti a tavola non gli dirà piuttosto prepara da mangiare stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti così anche voi quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite siamo servi inutili abbiamo fatto quanto dovevamo fare servi inutili o meglio senza utile cioè a gratis quando quel giorno saremo di fronte a lui facendo i conti nelle nostre tasche dio comincerà a scorporare tutto quello che abbiamo fatto per soldi e per vanagloria resterà solo ciò che abbiamo fatto per amore allora resteranno poche cose forse quelle di cui neppure abbiamo memoria tanto sono passate in sordina perché l'umiltà e la gratuità difficilmente rimangono esposte in vetrina per associazione di idee vorrei fare ascoltare una bellissima canzone di idee andrè per lo meno le poche note che ci interessano la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore metteva l'amore la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa c'è chi l'amore lo fa per noia chi se lo sceglie per professione bocca di rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa ho sempre pensato a questa canzone come alla storia di una prostituta fino a quando ascoltando un'intervista dell'autore ho dedotto che il mio punto di vista era di una banalità estrema de andrea infatti riteneva che questa figura lo rappresentava pienamente come artista infatti gli ripugnava l'idea di dover scrivere canzoni per portare a casa la pagnotta altrimenti il rischio era quello di scrivere canzoni per gli altri e non per sé il motore della sua arte musicale doveva essere la passione non il guadagno così come bocca di rosa certamente bocca di rosa metteva l'amore ma non per noia né per professione lei lo faceva per passione gesù ci chiede di esser servi inutili dobbiamo metterci a servizio degli altri per passione perché come sosteneva don tonino bello servire è voce del verbo amare e l'amore è gratuito vive della gioia di chi lo dona e fa felici gli altri il cristiano è per gli altri non capita anche a voi di essere contenti quando riuscite a strappare un sorriso da chi vi sta intorno o non vi capita di essere contenti per aver fatto semplicemente quello che dovevate fare e non è tutta qui la gioia grazie 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 grazie